Filippa Lagerbach nasce a Stoccolma in Svezia il 21 settembre 1973, è alta 1,75 m, presentatrice tv e modella e nota al grande pubblico come l'assistente di Fabio Fazio a che tempo che fa. Ecco 5 cose che forse non sai su Filippa Lagerbach. La prima love story importante è stata con un ragazzo del suo quartiere, con il quale è stata dai 12 fino ai 16 anni. Ha una passione per le bici e per la mobilità dolce, ha anche condotto il programma in bici con Filippa in cui ha percorso le più belle piste ciclabili di tutta Italia. Prima di conoscere Daniele Bossari ha avuto per 10 anni un fidanzato svizzero al quale ha lasciato antichi mobili svedesi del 1200, due Ferrari e una barca. Per mantenere la pelle giovane idratata si strucca con olio d'oliva. Nel 1996 ha esordito al cinema con il film Silenzio si nasce di Giovanni Veronesi.